salve a tutti oggi continuiamo il progetto del nostro alimentatore da laboratorio nello specifico la parte di costruzione dei due trasformatori di isolamento infatti la scorsa volta ci siamo lasciati che avevo completato di costruire il primo e avevo fatto vedere passo passo come avevo operato mentre c'eravamo detti che il secondo l'avrei fatto autonomamente perché era esattamente lo stesso progetimento ecco qui il risultato come si può vedere è venuto molto meglio sia per quanto riguarda l'ordine delle spire e che per quanto riguarda la saldatura sono riuscito a farla a dissaldarlo in modo molto più pulito ok quindi adesso andrò a seguire lo stesso test che ho fatto sul primo trasformatore sul secondo ecco qui ho rimesso su lo stesso setup di misura usato per il primo trasformatore e adesso li andremo a seguire gli stessi test ovvero misurazione della tensione di uscita a carico aperto e misurazione della tensione di uscita con carico via via crescendo ok adesso effetto la misurazione con carico aperto inizio a salire ok 220 volt di ingresso 114 e mezzo di uscita quindi siamo 4,5 volt sopra i calcoli teorici ok scendo andiamo ora effettuare il secondo test ovvero come il primo trasformatore una prova sotto carico utilizzando solo una lambadina quindi per un valore equivalente di 125 watt ok salgo su con la tensione ok siamo a 220 volt di ingresso 110 volt virgola 4 di uscita quindi anche in questo caso la tensione è leggermente calata scendo andiamo ora effettuare il terzo test ovvero con tutte e quattro le lambadine connesse in parallelo per un valore di circa 500 watt di potenza in uscita ok salgo con la tensione ecco qui 220 volt in ingresso 220 volt in ingresso 98 virgola 2 virgola 1 in uscita anche in questo caso c'è un fortissimo abbassamento di tensione e è molto strano scendo con la tensione anche col secondo trasformatore andando a inserire un carico da 500 watt in uscita si ha una forte caduta di tensione di quasi 17 volt e questo è molto strano perché a differenza del primo trasformatore cioè dei primi test fatti col primo trasformatore come si può vedere adesso gli ho fatto una sorta di gabbia con dei prigionieri che tengono perfettamente saldo le due parti del nucleo quindi non si tratta di manganzia di accoppiamento magnetico ma deve essere qualche altra causa che determina questa fortissima caduta di tensione quindi devo andarci un attimo dietro sono finalmente riuscito a capire da cosa è causata la caduta di tensione che vediamo in uscita del trasformatore quando andiamo ad applicare un carico in pratica la caduta di tensione che vediamo è provocata dalle resistenze dei due avvolgimenti cosa ho fatto? sono andato a misurare le resistenze dell'avvolgimento primario e secondario del primo trasformatore e le resistenze di primario e secondario del secondo trasformatore una volta misurate mi sono reso conto che il caso peggiore ricade nel secondo trasformatore infatti le resistenze di secondario sono pressoché simili mentre quella di primario è più altra nel secondo caso quindi sono andato a ripetere il test di carico a 500 watt e ho misurato sia le correnti di primario e secondario e sia le tensioni che avevamo già misurato durante il test ovvero abbiamo una corrente di primario di 3,9V a 220V di ingresso e una corrente di secondario di 5,56A con una tensione di uscita di 98V che era la tensione che avevo misurato prima e che cala da 115V a 98V una volta raccolti questi dati sono andato a costruirmi il circuito elettrico del trasformatore inserendo le resistenze di primario e secondario e svolgendo i calcoli adesso tutto torna infatti la caduta di tensione che si verifica sulle resistenze di primario e di secondario ha causato la forte caduta di tensione fino a 98V che abbiamo osservato in uscita com'è che si procede per svolgere i calcoli in questo circuito? noi abbiamo che la nostra sorgente di tensione è 220V ma a causa della caduta di tensione che si verifica sulla resistenza di primario che si calcola banalmente andando a moltiplicare la corrente per la resistenza otteniamo che la tensione vista ai capi dell'avvolgimento in realtà non sarà 220V ma 208,62V medesima cosa anche sul secondario ovvero a causa del rapporto spire di 1,91V a 1 cosa succede? succede che ogni 1,91V di caduta sul primario corrispondono a 1V di caduta sul secondario quindi il secondario non avrà in uscita 115V ma avrà in uscita 109,5V inoltre andando a sottrarre la caduta di tensione che si verifica sul suo avvolgimento pari anche questa banalmente alla moltiplicazione di 5,56A per 2,7Ω otteniamo che la tensione finale vista dal carico non sarà 115V ma bensì 98V quindi ecco spiegato il motivo della caduta di tensione che ovviamente maggiore saranno le correnti che circolano fra primario e secondario maggiore sarà la caduta di tensione in uscita questo però non è l'unico problema che ho riscontrato infatti le resistenze degli avvolgimenti oltre a provocare una caduta di tensione provocano anche una potenza dissipata quindi si va a creare anche un problema di tipo termico nel trasformatore andando a vedere meglio il circuito che poi sarà realizzato notiamo che è vero che i due trasformatori saranno in parallelo però questo si verifica solo dalla parte del primario mentre sul secondario i due avvolgimenti saranno in serie quindi qual è il problema? se noi volessimo alimentare un carico che per esempio assorbe 10A su ogni avvolgimento del secondario passeranno 10A perché sono in serie mentre sugli avvolgimenti di primario supponendo un trasformatore ideale passeranno su ognuno 5A e questo è un fattore di molto importanza infatti andando a svolgere i calcoli basandosi sulle resistenze che ho calcolato sul secondo trasformatore quello che possiamo vedere è che le potenze dissipate man mano che le correndi aumentano diventano improponibili infatti se guardiamo la colonna degli 8A come carico in uscita notiamo che il primario in realtà vedrà una corrente di soli 4A con una potenza dissipata di 46,72W che non è assolutamente poco mentre il secondario si vedrà passare tutti gli 8A con una conseguente dissipazione di 132W che è assolutamente improponibile in pratica l'avvolgimento rischierebbe di fondere nel giro di qualche secondo quindi alla luce di questi fatti possiamo notare che una colonna limite risulterebbe quella di 4A per motivi termici perché già una potenza di 33W sull'avvolgimento di secondario potrebbe risultare improponibile quindi accortomi di questo problema adesso dovrò andare a effettuare dei test per capire se in effetti il trasformatore può reggere queste potenze ho rimesso su il setup precedente quello con il carico da 500W per andare a effettuare un test termico ho messo un amperometro collegato in serie con l'uscita in modo da vedere la corrente che scorre nell'avvolgimento secondario inoltre ho connesso una termocoppia alla parte centrale sempre dell'avvolgimento secondario per tenere sotto controllo la temperatura il test che sarò si svolgerà aumentando pian piano la corrente e aspettando un po' di minuti controllare qual è la temperatura regime dell'avvolgimento quindi inizio con un valore di 2A e farò stare per un 5-10 minuti il trasformatore a rimunzionare dopodichè continuerò ad alzare la corrente fino a quando si raggiungerà una temperatura molto elevata ok alzo tutti e quattro i carichi sono collegati in parallelo ecco qui faccio stare per qualche minuto dopo 5 minuti la temperatura si è assestata su circa 36 gradi partendo da 20 gradi di temperatura ambiente quindi adesso quindi adesso aumento la corrente in uscita fino a 3A e faccio stare per altri 5 minuti il trasformatore ok sono trascorsi altri 5 minuti e adesso la temperatura si è stabilizzata su circa 57 gradi quindi quindi alzo ancora la corrente fino a 4A ok adesso aspettiamo non sono ancora trascorsi i 5 minuti ma la temperatura si sta avvicinando a 70 gradi che è il limite della plastica del filo di secondario quindi quindi come previsto 4A sembrerebbe essere il limite di questo trasformatore adesso scendo ok in conclusione per quanto riguarda la parte dei trasformatori di isolamento del nostro alimentatore da laboratorio possiamo dire che questi due trasformatori uniti hanno la potenzialità per poter erogare 2000 watt ma a causa di problemi termici un suo funzionamento continuo oltre 4A provocherebbe un surriscaldamento eccessivo del filo quindi in conclusione possiamo dire che il trasformatore di isolamento potrà erogare 1000 watt in forma continua e 2000 watt forse di picco ma per questioni di cautela io comunque penso che non salirò mai sopra i 1000 watt che comunque sono tantissimi infatti per un alimentatore da laboratorio 2000 watt per quello che ho intenzione di farci sarebbero quasi sprecati ed esagerati quindi penso che comunque raggiungere i 1000 watt di potenza partendo da due trasformatori di scarto sia un ottimo risultato siamo partiti diciamo con voler raggiungere 2000 ma comunque 1000 è una bella meta quindi con questo si può dire conclusa la parte di trasformatori di isolamento quindi nei prossimi video andremo a costruire le parti mancanti ovvero il variac che è già fatto andrò soltanto a realizzare il ponte a diodi e a mettere tutto in un case adatto per poter essere più comodo da trasportare o da utilizzare quindi per questo video è tutto alla prossima qui